Momenti di apprezzione in via Tiziano, nel pomeriggio di venerdì, cade una pianta ad alto fusto, un tronco che si abbatte contro la facciata di un condominio, arrivando addirittura a distruggere due balconi in cemento armato. I vigili del fuoco sono quindi dovuti intervenire con due mezzi e sei unità per mettere in sicurezza i balconi e quindi il condominio. La pianta caduta è un grosso cedro del Libano che si trova in un'area verde privata di cui spesso si è occupata anche la nostra trasmissione SOS Arezzo TV per l'erba alta che arriva addirittura fino al marciapiede esterno. Erano in corso dei lavori di taglio da parte di una ditta. A quanto pare però qualcosa non è andato per il verso giusto, l'albero è crollato addosso al palazzo. I vigili del fuoco hanno quindi lavorato alcune ore nel pomeriggio per mettere in sicurezza l'area. Sempre i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada per l'incendio di un furgone. L'incidente è avvenuto nella corsia sud dal chilometro 342 più 600. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Montevarchi con un mezzo e cinque unità intervenute per spegnere l'incendio.